Isaia, capitolo primo La visione di Isaia, figliuolo di Ammoz, che gli ebbe relativamente a Giuda e a Gerusalemme ai giorni di Uzzia, di Jotan, di Akkad, e di Ezechia, re di Giuda. Udite, o cieli, e tu terra, presta orecchio, poiché l'Eterno parla. Io, dicegli, ho nutrito dei figliuoli e li ho allevati, ma essi si sono ribellati a me. Il bue conosce il suo possessore, e l'asino la greppia del suo padrone, ma Israele non ha conoscenza, il mio popolo non ha discernimento. Ai, nazione peccatrice, popolo carico di iniquità, razza di malvagi, figliuoli corrotti! Hanno abbandonato l'Eterno, hanno sprezzato il Santo di Israele, si sono volti e ritratti indietro. A che pro colpirvi ancora? Aggiungereste altre rivolte. Tutto il capo è malato, tutto il cuore è languente. Dalla pianta del piede fino alla testa non v'è nulla di sano in esso. Non vi son che ferite, contusioni, piaghe aperte, che non sono state nettate né fasciate né lenite con olio. Il vostro paese è desolato. Le vostre città sono consumate dal fuoco, e i vostri campi li divorano gli stranieri sotto gli occhi vostri. Tutto è devastato, come per un sovvertimento di barbari. E la figliola di Sion è rimasta come un frascato in una vigna, come una capanna in un campo di cocomeri, come una città assediata. Se l'Eterno degli eserciti non ci avesse lasciato un piccolo residuo, saremmo come Sodoma, somiglieremmo a Gomorra. Ascoltate la parola dell'Eterno, o capi di Sodoma. Prestate orecchio alla legge del nostro Dio, o popolo di Gomorra. Che importa la moltitudine dei vostri sacrifici, dice l'Eterno? Io son sazio d'olocausti di montoni e di grasso di bestie ingrassate. Il sangue dei giovenchi, degli agnelli, dei capri, io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi nel mio cospetto, chi va chiesto di calcare i miei cortili? Cessate d'arrecare oblazioni vane. Il profumo io l'ho in abominio, e quanto ai novi luni, ai sabati, a convocare radunanze, io non posso soffrire l'iniquità unita all'assemblea solenne. I vostri novi luni, le vostre feste stabilite, l'anima mia li odia. Mi sono un peso che sono stanco di portare. Quando stendete le mani, io rifiuto di vederlo. Anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto, le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete dinanzi agli occhi miei la malvagità delle vostre azioni. Cessate dal fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate ragione all'orfano, difendete la causa della vedova. E poi venite e discutiamo assieme, dice l'Eterno. Quando anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diverranno bianchi come la neve. Quando anche fossero rossi come la porpora, diverranno come la lana. Se siete disposti ad ubbidire, mangerete i prodotti migliori del paese, ma se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada, poiché la bocca dell'Eterno ha parlato. Come mai la città fedele è ella diventata una prostituta? Era piena di rettitudine, la giustizia dimorava in lei, ed ora è un ricetto d'assassini. Il tuo argento si è cangiato in scorie, il tuo vino è stato tagliato con acqua, i tuoi principi sono ribelli e compagni di ladri, tutti amano i regali e corron dietro alle ricompense, non fanno ragione all'orfano e la causa della vedova non viene davanti a loro. Perciò il Signore l'Eterno degli eserciti, il potente di Israele, dice, ah, io avrò soddisfazione dei miei avversari e mi vendicherò dei miei nemici. E ti rimetterò la mano addosso, ti purgherò delle tue scorie come con la potassa, e toglierò da te ogni particella di piombo. Ristabilirò i tuoi giudici come erano anticamente, e i tuoi consiglieri come erano al principio. Dopo questo sarai chiamata la città della giustizia, la città fedele. Sion sarà redenta mediante la rettitudine, e quelle che in lei si convertiranno saranno redenti mediante la giustizia. Ma i ribelli e i peccatori saranno fiaccati assieme, e quelli che abbandonano l'Eterno saranno distrutti. Allora avrete vergogna dei tiri binti che avete amati e arrossirete nei giardini che vi siete scelti, poiché sarete come un terebinto dalle foglie appassite e come un giardino senza acqua. L'uomo forte sarà come stoppa, e l'opera sua come una favilla, ambedue bruceranno assieme, e non vi sarà chi spenga. Isaia Capitolo